Sì, è un po' così, è un po' appassionato No, ma quando mi, cioè, stai pensando, c'è anche adesso sì, ma in quel momento c'era tipo, cioè ci vuole che rimane e cazzo Ma che non è che mi agredisce, perché sono detto che rimane al pippo Sì, è un po' appassionato